È stato un momento anche bello per la città di Rimini perché è il momento che ha ricongiunto l'edizione del 2017 la maratona con l'avvio del percorso della imminente maratona 2018 ovvero la consegna degli assegni a tre associazioni che da anni lavorano nel nostro territorio con diverse finalità ma sempre finalità di tipo sociale. La maratona di Rimini, la Rimini Marathon, anzi è sempre stata molto attenta a questi temi ed è diciamo un po' la cifra di come la maratona è riuscita veramente nella nostra città a toccare non solo le gambe, i muscoli, le articolazioni dei quasi 7.000 che partecipano ogni anno a tutte le manifestazioni della maratona ma anche il cuore. Quindi è stata una bellissima cosa, è un'attività tra l'altro di Celti che la maratona ha sempre promosso dalla prima edizione e quindi siamo ben soddisfatti come amministrazione di poter dire che è una manifestazione che ha tutti i crismi per crescere sempre di più. Simone? Sì, come diceva l'assessore, la charity program della Rimini Marathon è un po' il contorno di quello che è proprio l'evento sportivo. e quest'anno, 2017, siamo riusciti a sostenere Rimini Formutoku, una goccia per il mondo e rompe il silenzio. Rimini Marathon è riuscita a raccogliere la cifra di poco più di 4.000 euro che poi è andata suddivisa in parti uguali a tutte e tre le società. Quello che ci fa piacere è che attraverso anche alcuni interventi da parte di imprenditori locali Rimini Marathon è riuscita a dare un sostegno sempre maggiore a favore di queste associazioni e anche quest'anno sosterremo tre associazioni in quello che è un pochino un discorso anche di rinnovamento delle stesse quindi a parte Rimini Formutoku che abbiamo in piedi un progetto insieme le altre due saranno cambiate, saranno Cittadinanza Onlus ed inoltre ci sarà anche Rimini Autismo quindi delle associazioni sempre di carattere locale che poi hanno comunque anche dei progetti all'esterno speriamo anche quest'anno di riuscire a fare comunque un ottimo lavoro. Grazie